bene 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 sto in diretta da molto tempo che non faccio una diretta qua non molto tempo che faccio una diretta qua vediamo un po che cosa posso fare se c'è qualcuno se c'è qualcuno vediamo io io non seguo non c'è nessuno collegato dal vivo ci sono poche persone collegate dal vivo poi c'è la batteria qua si scarica perché di note non è che l'avevo caricato molto allora vediamo un po cerco di collegare di mandare un messaggio a tutti gli amici a tutti i gruppi che posso mandare naturalmente un limite perché se non me la passa mandando comunicazioni ciao e giorgio scanu ciao o la salutiamo salutiamo e lo e lo tu everybody anche idioma ablan parlate in italiano ecco qua non so perché il lato magari il meglio si giriamo non so poi magari la caricherò la caricherò o la ciao conti ciao a tutti siete sempre uno in diretta almeno così mi segnala il cellulare che c'è 40 per cento di carica beh ho voluto fare una una live qua e non in youtube perché in youtube poi deve venire un qualche cosa articolato io sono giorni che non faccio più nulla per youtube e avevo caricato un video non so lo scorso sabato domenica avrei dovuto fare qualcosa oggi una live una premier ma non ho fatto nulla ciao salvatore sposato ciao avrei dovuto fare oggi una live per youtube o una premier però non mi andava di fare nulla ciao andrea real come va come va a tutti e tutti bene sto presente molte piattaforme questo mi leva tempo per youtube va bene andrea come va a te spero bene ti sono molto occupato a produrre del materiale per youtube io dicevo sono molto occupato nel fare cose per molte piattaforme sociali quindi alla fine sto poco presente in youtube poi ultimamente non aumentano le visualizzazioni quindi a volte caricare troppi video simultaneamente porta che le visualizzazioni siano poche soprattutto se non si caricano dei temi evergreen che vanno sempre di moda qua mi dice in diretta che c'è una persona sola non so io mando molti inviti però vediamo rimando inviti magari la gente si scoccia perché ecco mandati altri tre o quattro inviti sì tutto bene dice andrea sto precedendo producendo video musicali in questi giorni sia per italiani che per latino americani ho girato un video una settimana fa per il canale e non possa ancora editarlo perché non ho tempo e il tempo purtroppo il nostro grande tiranno che limita la nostra esistenza se fossimo immortali forse non faremo nulla come ha scritto forse lois borges in un suo racconto ma qua una persona mi saluta però non la chat quindi non esco da lanciare dal video però dicevo il tempo è un grande tiranno però allo stesso tempo i limiti del tempo ci impongono di dover fare tutto quello che dobbiamo fare nell'arco di una sola esistenza pensa se fossimo immortali potremmo posticipare a vita tutto quello che vogliamo fare in pratica non realizzeremo mai nulla perché chissà le sequoie che vivono migliaia di anni a volte decine di migliaia di anni le cose che potrebbero posticipare con rispetto a noi che viviamo una scala di tempo più limitata ho beccato una truffa riguardante instagram e alcuni hanno perso 15 mila dollari in questa truffa ma come è possibile vabbè che c'è gente che si fida di tutto che gli arrivi un sms che gli dice questo sms ti vendiamo camionette di una certa marca o furgoncini scontati del 90 per cento dacci il 10 per cento subito che te le mandiamo a casa e io conosco persone che dicono di aver abboccato queste cose non so se millantano oppure è vero perché a me mi mandano guarda paga il 10 per cento di un cellulare costosissimo che te lo mandiamo gratis a casa sono solo spese per l'invio e io non abbocco queste cose perché quando la limosna smucia asta il santo de sconfia non faccio altri spoiler però ho fatto fatica a trovare perché ci sono poche info va bene si è meglio non anticipare ma incredibile come le persone non non abbiano una sana diciamo prevenzione nei confronti delle del denaro facile perché giulio andreotti diceva lui che era un furbetto a pensare male si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre si indovina quasi sempre e quindi bisognerebbe un po' pensare male un po' non sempre non di tutti ma quando ti vengono a proporre degli affari appunto non ti devi basare sull'emotività ah sì che bel cellulare me lo offrono all'uno per cento pago perché quello che ti può sembrare poco adesso sarà molto dopo cioè pagare poco per una cosa che ti danno per esempio se tu conosci e ti fidi di un amico ti fidi di uno zio ti fidi di un parente quasi sicuramente tuo nonno non ti deruberà il denaro quasi sicuramente perché ci sono dei casi in cui succede pure quello ma uno sconosciuto che ti dice dammi 100 euro per un cellulare da 2000 nuovo che magari si è pentito di comprarlo non ti arriva nulla invece se tuo nonno che si è pentito di comprarsi l'ultimo samsung da 1000 euro che non lo utilizza perché non sa come utilizzarlo è probabile che per cento euro te lo regala o clienti importanti molto tranquilli e altri meno importanti che farebbero qualunque per farsi notare è vero come dice che partecipa una persona ma sono entrate in molte poi aspetta forse devo lasciarti devo lasciarvi perché mi si sta scaricando il cellulare bene vi lascio buon sabato buona domenica buon felice se fine settimana a tutti e arrivedoci